buonasera ci ritroviamo insieme per pregare io in chiesa e voi a casa oggi è venerdì di quaresima e vogliamo pregare con la via lucis e la benedizione eucaristica chiedendo al signore che ci aiuti a seguirlo sulla via che lui stesso ha percorso la via della conce vogliamo affidare al signore tutte le nostre sofferenze le nostre difficoltà i momenti difficili che stiamo vivendo in modo particolare in questo momento preghiamo perché il signore ci liberi da tutti questi mali e in modo particolare dai nostri peccati